Buonasera a tutti, siamo molto felici di avervi qui, veramente un grande piacere a nome di Ananda Edizioni e per noi è un momento molto prestoso. E' un momento molto gratuito soprattutto a questo libro, l'autobiografia di uno yogi. Come vi dicevo, questo è un classico spirituale che ha cambiato la vita di milioni di persone, veramente. E' stato considerato uno dei best seller spirituali del secolo. Questo è un libro molto speciale, molti di voi forse lo avete già letto. In questo libro Yogananda infuse le sue vibrazioni, in ogni parola, quindi infuse la sua coscienza. E per questo non è semplicemente un libro, è proprio un messaggio molto forte e ha un potere trasformante. Quindi ha toccato veramente le vite di moltissime persone, le ha cambiate, molte anche in questa sala. Anche personaggi famosi l'hanno apprezzato da Thomas Mann, il premio della letteratura, a degli artisti come George Harrison, Elvis Presley, attori come John Voight, Ben Kingsley, e recentemente anche Steve Jobs che l'aveva scaricato sul suo iPad. Quindi un libro veramente universale. Un libro profondissimo e siamo molto felici di avere questa edizione ascoltabile. Questo audio libro che Enzo ha voluto realizzare, è stato proprio un bellissimo progetto nato insieme. Quando ho incontrato Enzo e gli proposi di registrare, di leggere il libro, lui è stato subito molto entusiasta. Perché Enzo è un grande attore di teatro, di cinema, di televisione, ma anche proprio un profondo e sincero ricercatore spirituale. Passeremoci la parola a un carissimo amico, che è l'onorevole Paolo Masini, che è qui di fianco a me, che è un responsabile della Commissione Cultura qui al Comune di Roma. Paolo ha sostenuto sempre le nostre iniziative nel mondo dello yoga e della spiritualità, ha aiutato a realizzare lo Yoga Festival che è Roma e ci ha sempre accompagnato in tantissimi eventi. Quindi con molto entusiasmo ho accettato di essere qui stasera per dire due parole su questo libro, su questo maestro Yogananda. Quindi benvenuto Paolo. Mi piace essere qui perché è un percorso che nasce da lontano. Io ricordo la prima volta che Nandini mi propose all'epoca con l'altra amministrazione di presentare appunto proprio il libro. Insieme a Criananda nella sala del Carroccio ci fu parecchia agitazione perché spiegare al cerimoniale del Comune di Roma, insomma abituato a fare altro che si poteva presentare anche un libro del genere, è stato abbastanza problematico, da come disporre le sedie e i fiori da mettere sui tavoli, alla richiesta di una responsabile del cerimoniale che a un certo punto mi fa ma Yogananda è arrivato. Era già qui tra noi. Io credo che ai tempi nostri un audiolibro sia davvero importante e fondamentale. Anch'io l'ho ascoltato, è vero, è diverso rispetto a che leggo il libro e in più credo che nella vita a volte, spesso frenetica, che facciamo magari in audiolibro aiuta a fermarsi un attimo a ragionare e essere un po' più profonde di quello che facciamo di solo. E' un'opportunità per noi tutti per conoscere meglio questo libro, per sapere meglio appunto anche l'avventura di Kriyananda, oltre che quella di Yogananda, di Kriyananda e del suo incontro con Yogananda e delle opportunità. Nella parte finale ci sono anche alcune cose riguardanti il Matma Gandhi, credo che insomma è un'opera che fa bene a tutti noi. Grazie a Paolo per le sue parole ispiranti, sempre la sua entusiasmo, la sua bella energia e anche tutto il lavoro che svolge qui a Roma, la comunità di Roma, proprio sempre all'insegna dell'etica, della cooperazione, della solidarietà e anche proprio di questi valori di una coscienza nuova, che vogliamo portare di un nuovo pianeta. Quindi veramente grazie per il tuo lavoro. Adesso è il momento di passare la parola a Enzo. In ordine proprio di gerarchia io vorrei lasciare la voce, anche se non è presente per motivi tecnici qui in sala, volevo lasciare la voce proprio a Suomi Kriyananda che parla all'inizio del nostro audiolibro. Abbiamo voluto mettere la sua voce, la sua esperienza, il suo ricordo, la sua testimonianza e quanto sia stato importante che la sua vita, la sua opera abbia in qualche modo mantenuto, intatto e ridato proprio l'anno scorso, due anni fa, quando era nel quarantesimo, questa nuova edizione integrale di Autobiografia di uno yoga. Per cui se possiamo sentire la sua voce. Ho incontrato Paramanso Yogananda grazie a questo libro. Devo dire che trovare l'autobiografia di uno yoga fu per me un'assoluta sorpresa. Leggerla fu l'esperienza più commovente di tutta la mia vita. Una volta lanciatomi in questa avventura letteraria, mi trovai a oscillare tra lacrime e risate. Lacrime di gioia, risate di una gioia ancora più grande.